Vistore, mi sente? Sì. Salve, buon pomeriggio. Complimenti per il calcio mercato. Tra l'altro lei è amatissimo tra i tifosi. A breve ci sarà anche la processione di San Matteo il 21 di settembre. Quindi lei è quasi in questo momento paragonato a San Matteo per quello che ha fatto e che sta facendo. Volevo chiedervi se lei ha sentito nel corso del calcio mercato il proprietario o al termine del calcio mercato. Se sì, che sensazione ha avuto? E poi prima lei ha parlato del cappellano che lei aveva previsto un gol di Simi, con il Cittadella. Visto che parliamo anche di obiettivi dopo il calcio mercato, ci può dire almeno che sensazione ha? Visto che ancora non lo ha detto a Don Roberto, ce lo può anticipare a noi. Sì, naturalmente con il presidente ci siamo sentiti. Nell'ultimo periodo anche molto più frequentemente. ma onestamente mi ha fatto piacere che soprattutto nell'ultimo periodo il presidente ha iniziato a fidarsi, ha iniziato a lasciarmi fare perché all'inizio purtroppo c'è stata anche qualche frizione ma dettata anche da quelle che sono state le esperienze precedenti quindi era un po' scottato. Nell'ultimo periodo onestamente mi ha lasciato fare almeno nella scelta anche. Ecco, per esempio faccio l'esempio di Daniluco e magari in un'altra occasione magari non si vende, lo teniamo. E ho detto, presidente, è un giocatore scontento, io non lo tengo. Faccio a lei. Ecco, questa cosa mi ha gratificato moltissimo perché evidentemente ha compreso totalmente quello che era l'interesse comune quello comunque di portare e di avere giocatori motivati in squadra e fidarsi poi di quelle che sono anche delle sensazioni per chi la costituisce, per chi ci sta dentro tutti i santi giorni e che vive evidentemente poi dei mal di pancia di alcuni della voglia di andare di altri. Sì, abbiamo avuto anche, soprattutto all'inizio non degli scontri, ma delle visioni diverse. Però poi piano piano, piano piano, piano piano anche tanta pazienza perché poi alla fine, ripeto, forse essere stato fermo due anni mi ha permesso di avere questa lucidità, questa forza interiore per confrontarmi anche in maniera forte, importante con il presidente. Alla fine credo che lui sia soddisfatto, credo che sia contento. nel dopo, dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno che non è saltato un fanciore non ci siamo poi più sentiti, ma sicuramente accadrà in questi giorni perché poi ci dovevamo sentire, dovevamo fare un po' il sulto della situazione. Però credo che adesso, almeno questa è la mia sensazione, il presidente abbia iniziato a fidarsi del sottoscritto. Quindi questo è già per me un successo.